Nel misterioso e controverso caso Ozyman, si fa avanti il ministro nigeriano, Giono Waneno, con parole che fanno riflettere e gettano nuova luce sulla situazione. Cosa ha da dire il ministro riguardo alla situazione dell'attaccante del Napoli, Victor Ozyman? Questo è Italian Reporter 24, il tuo canale di informazione, cronaca e approfondimento. Nell'ultimo comunicato ufficiale emesso dal ministero dello sport nigeriano, il ministro Eno è intervenuto direttamente sulla questione che coinvolge Victor Ozyman. Ha annunciato che il suo ufficio sta lavorando diligentemente per raggiungere personalmente il calciatore e capire, appieno la situazione. Ma non si ferma qui. Il ministro degli affari esteri e l'ambasciatore della Nigeria in Italia sono stati coinvolti in questa delicata questione. Si stanno usando le vie diplomatiche per approfondire la situazione con l'Italia. Quali sono le vostre opinioni riguardo alla situazione di Victor Ozyman e alle accusi di discriminazione? La dichiarazione del ministro Eno è chiara. Si impegna a garantire che ai nostri sportivi venga accordato il rispetto che meritano. L'importanza di proteggere gli atleti dalla discriminazione e dall'ingiustizia viene messa in primo piano. Questo messaggio è fondamentale per la carriera di Ozyman e di tutti gli sportivi. Metti un like al video ed iscriviti al canale per nuovi notizi e aggiornamenti.